Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Lei ravvede una continuità fra una serie di episodi che sono avvenuti tutti in questo periodo, l'esternazione di Sgarbi al Maxi con l'enunciazione del catalogo delle sue conquiste, combattute, turpilocchio, tutto quello che sappiamo e poi anche questo incredibile documento di La Russa, poi saggiamente ritirato, ma insomma una documentazione autogra, fa scritta. Vi dimmata dall'ufficio stampa in cui in sostanza si diceva che la ragazza aveva fatto uso di cocaina e che suo figlio era innocente perché l'aveva interrogato lui. Quindi c'è una cultura maschilista sotto questi episodi? Certamente c'è. Non credo che La Russa abbia avuto bisogno delle elezioni di Silvio Berlusconi per mostrare il suo maschilismo. Credo che gli appartenesse anche precedentemente, ma non solo sul rapporto con le donne e il rispetto nei confronti delle donne, ma per esempio nei rapporti con la magistratura. D'altra parte la Presidente del Consiglio l'aveva detto il giorno del funerale, raccoglieremo la tua eredità Presidente. Stanno raccogliendo la peggiore eredità di Silvio Berlusconi in questi atteggiamenti che stanno tenendo disprezzo delle istituzioni, di mancanza di rispetto delle donne e di soprattutto attacchi alla magistratura, come si sta ripetendo, quando viene toccato e sfiorato qualcuno di questo governo. Ormai non sono pochi, tra fatti familiari, imprese e cose varie. Credo che queste vicende che stanno ogni giorno calpestando la dignità di questo Paese sono assolutamente gravi e portano con loro anche qualche cosa che io inviterei a non sottovalutare. Si continua a discutere delle loro battute, della loro mancanza di rispetto delle istituzioni, che per carità sono cose gravissime, le più gravi di tutti. Ma nel frattempo ci si distrae dalla loro assoluta incapacità di governare, perché loro intanto sono preoccupati di occupare il potere e in questo lo stanno facendo benissimo, alla RAI, nello sprezzo nei confronti dei pesi e dei contrappesi, nei confronti della magistratura, addirittura hanno perso mesi perché prima di tutto nei confronti del PNRR dovevano assolutamente sostituire il comitato che doveva gestire i fondi. Intanto questo governo che ha avuto ciò che non ha avuto nessun governo nella storia della Repubblica, e non certo per merito loro, fondi e soldi enormi, non stanno facendo nulla, anzi rischiano di perderli, mentre tengono il Paese occupato da questa loro incultura costituzionale e repubblicana. Lei ha fatto riferimento all'occupazione di posti.